Siamo con Vito Tanzella, capogruppo degli scout Casa Massima 1, si è appena conclusa la manifestazione dopo i fatti di Brindisi. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Tristezza e molta rabbia. Molta rabbia perché questi emeriti criminali credo che hanno trovato il sistema proprio più sbagliato per poter fermare i giovani, perché come altri fatti del genere in passato dimostrano che hanno l'effetto contrario. Mi dispiace per una ragazza, per una vittima, per una famiglia distrutta, però questo a noi ci dà la forza per andare avanti e più determinazione per dare futuro e speranza ai ragazzi. Grazie a Vito Tanzella.